Quanto spende di più Demetho Sdemir per lo shopping? I fan di Demetho Sdemir sono curiosi di molte questioni legate alla vita della famosa attrice. Uno di questi problemi riguarda dove spende più soldi. Demetho Sdemir mostra per la prima volta interesse per le scarpe quando va a fare shopping. Perché le scarpe rappresentano una grande passione per la famosa attrice? Già le scarpe della famosa attrice nei suoi post hanno sempre attirato l'attenzione. Anche i suoi fan stanno seguendo le sue scarpe e stanno cercando di trovarne di simili. Un'altra passione di Demet sono le borse. Come ogni donna, l'attrice, che vuole che la sua borsa sia bella ed elegante, esamina soprattutto scarpe e borse quando va a fare shopping. Si parla molto anche delle tute di Demetho Sdemir. Perché all'attrice piace vestirsi comodamente se è fuori dal set e non ha partecipato a un evento? Demetho Sdemir, che con il suo look sportivo sottolinea la libertà nella scelta dei vestiti e nel muoversi comodamente, spende di più in scarpe, borse e tute. C'è anche una passione per le giacche di pelle. I vestiti preferiti dell'attore sono le giacche di pelle.